Di giù Va bene come benvenuti Amor, come stai? Allora ho visto un sacco di amici nostri che vengono dalla zona mesuliana Un omaggio a zona mesuliana Quale omaggio possiamo fare? Una bella Francesca Castilla Brava Maestro, chiamateci tre botte Andate all'aria Anerlandi Jaka sti ne se vami lila Jodariam se bo Osta e mentre non tragevano, non tragevano risarmi, ma pensi che saranno, e stai da stare in france, e io ho poco raggiunto da lavorare, non c'è stata cosa bella, guarda se fanno in palestra, non te faccia di male, non te faccia di male.